L'altra è in difficoltà gravissime perché da sempre è in posizione di svantaggio. Da sempre. Perché chi mette in discussione gli equilibri esistenti parte con uno svantaggio colossale. Le risorse intellettuali, i migliori cervelli, stanno dalla parte opposta. È un po' buffo il fatto che si rimproveri, lo si è fatto finché è esistita l'esperienza dei partiti comunisti o simili ad essi, insultare i loro rappresentanti per la non eccelsa preparazione in tanti campi. Questo era un refrain continuo. Direi che eroicamente erano riusciti a dotarsi di persone comunque capaci di combattere, di farsi ascoltare, sebbene tutte le gratificazioni attraessero le forze intellettuali migliori dall'altra parte. Partono con svantaggio. Questo svantaggio può talvolta prodare a dei risultati. Quando si diceva è finita, con l'89, un'esperienza durata 70 anni, alcuni dicevano che era durata tutto sommato poco. Io dico che è durata moltissimo. Moltissimo. Se uno pensa che Spartaco reste due anni e mezzo e sollevò tutta l'Italia. Il Comitato di Salute Pubblica parigino perde la partita in pochi mesi. Quando un italiano, credo tuttora venerato, a destra e a sinistra, per la sua grande onestà intellettuale, simpatia umana, romagnolo di origine, quindi questo è un valore aggiunto, si chiamava Pietro Nenni. commemorò alla Camera dei Deputati in Italia il 6 marzo del 1953 l'appena defunto Stalin. Fece un discorso bellissimo. Improvvisò, perché lui non aveva lo spartito, altri avevano un testo, lui improvvisava. e non nascose i dissensi, fu lucidissimo. Poi disse questa esperienza è miracolosa per il fatto che il suo principale obiettivo era durare di più della Rivoluzione Francese. Obiettivo in parte conseguito per la durata stessa che abbiamo constatato quello che sfuggiva a Nenni è che i corpi storici si trasformano cioè nulla rimane immobile anche un corpo sociale che è fortemente caratterizzato da un impianto ideologico un impianto addirittura partitico statale che sembra quasi una gabbia d'acciaio anche quello si trasforma a un certo punto la gabbia si sgretola e viene fuori un corpo nuovo che stava dentro che stava crescendo e la storia va avanti sempre così. Allora la fine di queste eroiche esperienze alla fine sconfitte o trasformatesi nel proprio contrario come sotto i nostri occhi lasciano sul terreno un risultato allarmante che cioè la unione la possibilità di collaborare sul piano internazionale è quasi non dico impossibile ma è un'idea forza sempre più smentita dal particolarismo di ciascuno che lotta nel luogo dove si trova ecco perché l'utopia della fratellanza è in difficoltà perché non riesce a connettere gli interessati che dovrebbero secondo quella frase finale unitevi quella celebre frase nel dialogo fra Marx e Sassun Marx dice ma una formula come quella nessun pubblicitario vostro la saprebbe tirar fuori proletari di tutto il mondo unitevi grande successo come formula però quando lui diceva questo a chi pensava quali erano i soggetti a cui pensava pensava agli operai inglesi qualche area della Germania il nord della Francia forse la Lombardia non siamo sicuri di questo quelli erano il mondo che lui invitava ad unirsi ma quando il mondo va da Shanghai a città del Messico unitevi quindi è una parola puramente volitiva veleitaria un'idea forza ecco perché è in difficoltà ciò non toglie che nel medesimo libricino al quale ho fatto varie volte riferimento mi riferisco al manifesto di Marx c'è scritto che la storia è storia di conflitti di classe che però si possono non necessariamente risolvere positivamente ma anche con la comune rovina delle classi in lotta e io temo che lo scenario che noi abbiamo rassomigli più alla comune rovina dei confliggenti che non ad una uscita positiva darei a voi la parola prego a lei c'è il microfono grazie grazie molte no vorrevo fare intanto un'osservazione mi ha molto interessato il discorso sulla sulla schiavitù e ho pensato che forse in qualche parte della ampia letteratura degli ampi scritti di Marx si dice che il capitalismo superando tutti i modi precedenti di produzione li conserva anche in sé che dialetticamente il superamento degli altri modi di produzione sono conservati nel modo di produzione di produzione superiore quindi che nel capitalismo c'è la schiavitù e ci direi che c'è anche il feudalesimo almeno ad ascoltare due economisti americani un tempo molto noti apprezzati e oggi scomparsi se ne siamo dimenticati che erano Suisi e Baran che i monopoli capital parlavano di un capitalismo divenuto un capitalismo di tipo feudale ecco no corporativo feudale le grandi corporation e l'altra cosa che mi è suggerita dall'ultimo discorso molto interessante ecco e vorrei ripetere le due domande che Rossana Rossana ha rivolto ai congressisti di sinistra italiana dicendo in una lettera che ha scritto ma rispondete per prima cosa a due domande esiste ancora la lotta di classe e inoltre esiste la classe operaia questi sono i punti di partenza per ogni ragionamento che riguarda il futuro della sinistra grazie la prima parte da lei svolta mi pare quanto mai istruttiva e la ringrazio lei citava Suizi beh un autore che io amo moltissimo molto connotato socialista americano di grandissima intelligenza come sarebbe stato Sanders ove fosse diventato presidente degli Stati Uniti abbiamo invece un'alternativa deteriore ma però c'è un dato che è stato non so quanto veridico perché poi queste notizie sono sempre approssimative che cioè nella fascia diciamo di età più giovane degli elettori purtroppo in America vota poca gente meno della metà degli aventi diritto ma insomma tra quelli che hanno votato nella fascia dei trentenni ventenni eccetera Sanders era il primo cioè in testa nei sondaggi questo può far ben sperare Suizi era uno studioso formidabile e assolutamente indipendente intellettualmente i cui libri ancora oggi si possono utilmente studiare quella osservazione che è economica e filosofica al tempo stesso il capitalismo supera le forme precedenti inglobandole in se stesso è molto vera tanto più se si considerano i concreti esempi di capitalismo nei vari paesi dove la storia pregressa pesa e quindi costituisce parte costitutiva essenziale del modo di produzione la seconda questione lei poneva in realtà è molto più diciamo legata a dati della nostra vita nel suo farsi non sapevo che Rossanda che un grandissimo cervello avesse lanciato questa domanda che un po' è una sfida e la domanda se la posero studiosi di varia ispirazione almeno 40 50 anni fa io mi riferisco al saggio di Silos Labini il saggio sulle classi sociali in Italia che sollevava una questione allora quasi scandalosa sembrava un'eresia quello che lui diceva lui diceva l'automazione riduce numericamente il ceto operaio di fabbrica ne fa una minoranza nella società via via questo in realtà negli Stati Uniti è già attuato da tantissimo tempo perché faceva questa osservazione perché l'implicita polemica che Silos Labini svolgeva era contro i partiti politici che adoperavano il concetto classe operaia come sinonimo di popolo grande problema dei partiti operai quello di scoprire di non essere la maggioranza numerica dei paesi in cui operano hanno lottato anzi sono i principali artefici della conquista del suffragio universale malvisto dai liberali di ogni tendenza che hanno sempre preferito il suffragio ristretto al massimo il suffragio plurale ma non quello universale con l'argomento classico della non competenza chi non è competente poi competenza e censo andavano insieme per cui anche il censo diventava parte della competenza e comunque era un elemento che escludeva nella tradizione liberale questo era normale i partiti operai hanno lottato per il suffragio universale per un principio di giustizia ma anche nella convinzione che fosse la strada maestra per dare il potere appunto ai ceti lavoratori e la prima delusione è arrivata molto presto non parlo del secolo ventesimo parlo del diciannovesimo quando nasce la seconda repubblica francese si va a votare e si scopre che i partiti moderati sono la maggioranza ci fu un momento in cui prima che Luigi Bonaparte diventasse presidente e poi imperatore in cui fu un governo diciamo neo-giacobino che propose di restringere il suffragio e invece Luigi Bonaparte ripropose il suffragio integrale maschile e vince e diventò presidente e poi col plebiscito imperatore l'esperienza si è rinnovata nella Germania del 1918 no? crolla l'impero sconfitta militare l'imperatore fugge e se ne va in Olanda la bandiera rossa sul Reichstag Scheidemann capo dei socialisti cancelliere si va a votare nel gennaio del 19 ed è una forte minoranza non è una maggioranza assoluta e quindi le coalizioni quindi andare scendere a patti con altri partiti quindi il problema la classe è solo una parte dell'intero è il grande macigno che si è posto sulla strada dei partiti operai alle prese col problema conquista del potere con i meccanismi dell'automazione questo fenomeno si è sviluppato in maniera esponenziale però c'è un elemento che sfugge spesso e cioè lo sfruttamento Marx non è un filantropo è uno che studia il meccanismo dello sfruttamento e lo studia nella fabbrica che quando lui studia questo problema è la cellula fondamentale della produzione moderna oggi lo sfruttamento è lo sfruttamento intellettuale la classe sfruttata non sono soltanto le mani callose e le tute blu tutti coloro il cui lavoro intellettuale è utilizzato a fini di un profitto che ha le forme più diverse quindi lungi dall'essersi ridotta Silvio Slabini faceva la predica ai partiti di sinistra diventerete una minoranza irrilevante si è ingigantita il problema è la coscienza di essere sfruttati quello è il problema drammatico perché una delle arti straordinarie di chi domina è di frantumare il suo interlocutore il suo avversario con gratificazioni settoriali con un antico principio divide e timpera mi pare che è stato abbastanza utilizzato su piani diversi in epoche diverse aggiungiamo un altro elemento che cioè il ceto intellettuale che non vuol riconoscere di essere in questa condizione di dipendenza rifiuta di funzionare secondo i meccanismi tradizionali dell'organizzazione del lavoro che difende se stesso come dire se nell'aprile del 1920 l'occupazione delle fabbriche fu una fuga in avanti finita miseramente soltanto in alcune zone Torino eccetera e tutto il resto la CGL lo bloccò la sconfitta era dietro l'angolo era quasi prevedibile oggi nessuno penso abbia in mente di procedere a meccanismi del genere primitivi potremmo dire sconfitti dal fatto che chi voleva dirigere le fabbriche di fatto non era in grado di farlo la produzione crollava invece i ceti intellettuali che sono anch'essi sfruttati sarebbero in grado di dirigere senza avere sulla testa qualche d'uno in pro del quale produrre intellettualmente spiegare questo che la fascia superiore è parassitaria è molto difficile però forse la grande partita che ci sta davanti per decenni prossimi è proprio questa la coscienza che lo sfruttamento si è raffinato è diventato pervasivo e che capirlo è già metà del cammino ecco perché quella domanda era giustissima e la mia risposta contiene anche la seconda parte la lotta di classe esiste ancora anzi più che mai Luciano Gallino ha scritto quel bellissimo libro la lotta di classe dopo la lotta di classe in cui spiega che chi aggredisce non è chi si vuole liberare ma chi ha preso il sopravvento e per un bel po' ritiene di aver vinto la partita altre domande altre domande prego signora ecco il discorso che ha fatto adesso è assolutamente condivisibile cioè la classe degli sfruttati è cresciuta di smisura ed è fatta di varie componenti come diceva il problema però rispetto a prima è che questa classe sfruttata composita non ha assolutamente rappresentanza politica cioè è questo il problema centrale dei nostri giorni perché tutti questi queste componenti della classe sfruttata sono per conto loro insomma sparpagliati non hanno nessun nessun riferimento unitario e e questo è il problema di oggi credo che se non non si affronta e non lo si supera con una soluzione sarà possibile una soluzione ci lascerà tutti in brache di tela ecco siccome amico Montroni mi è arrivato e mi ha richiamato ai tempi Romano Montroni direttore dei libri ambasciatori direi magari di raccogliere alcune domande così poi possiamo chiudere con una risposta complessiva così non facciamo torto se ci sono altre domande no allora benissimo finiamo con la signora è stato ferale questo intervento del Montroni non un censore no perché giustamente scherzo poi c'è per lasciare spazio anche la firma dei libri dove magari altri preferiscono cogliere questa occasione per scambiare le chiacche va bene no ma lei pone una questione verissima la quale nessuno di noi è in grado di porre rimedio altro che lei non proponga che da questa sala nasca una formazione politica cosa che si può anche tentare di fare ma insomma un gruppo molto ristretto ma una minoranza significativa ma a parte questo lei spinge giustamente l'indagine ma il tempo che abbiamo non è tantissimo verso una questione molto interessante che è arrivata nel caso per esempio del nostro paese ma non solo forse ad un punto terminale un punto d'arrivo e cioè è evidente che una formazione politica esiste in quanto si propone di assumere un ruolo di governo no non come semplice testimonianza a tal fine deve fare i conti con la composizione sociale del paese in cui opera ma è con tanti altri fattori che vanno dalla cultura alla religione all'economia infiniti altri quindi deve avere la capacità di sintesi allora questo cammino è molto complicato perché può avere due esiti tutte e due negativi e il punto di equilibrio è difficile marciando verso l'altro da sé direbbero i filosofi idealisti si snatura completamente quindi quando si è perfezionato il cammino di totale adesione alla realtà che voglio conquistare non sono più me stesso e mi accorgo voltandomi indietro che ho perso un pezzo enorme che stava lì per il punto di partenza da cui io ero nato e questo è ciò che vediamo in questi giorni l'altro elemento è molto più doloroso a mio avviso e cioè i rapporti di forza nelle varie società complesse ricche avanzate eccetera occidentali per tenersi al termine ambiguo che abbiamo all'inizio evocato si trovano dinanzi ad una constatazione che si può contare molto in difesa dei ceti più deboli senza snaturarsi e rassegnandosi a rappresentare soltanto una parte della società dove nei luoghi dove si decide e allora forse a questo punto entra in scena un fattore che di solito viene considerato puramente tecnico formale perché non so se lei si posta mai questa domanda nei paesi che si autodefiniscono democratici pluralisti eccetera eccetera ben presto dopo la fine dei fascismi e della seconda guerra mondiale i sistemi della rappresentanza sono diventati via via sempre più maggioritari escludenti non proporzionali è un meccanismo che lei può constatare in tutti i paesi in varie forme il più castigato e morigerato è la Germania con la sua potente soglia del 5% con cui si estromettono dal Parlamento delle minoranze per il fatto che sono minoranze l'argomento moralistico è la frantumazione ma sappiamo benissimo che non è un grande argomento allora cos'è accaduto è accaduto che chiarito che non si arriva al potere politico con una maggioranza irraggiungibile dà fastidio che una minoranza abbia una rappresentanza parlamentare allora si inventa una legge elettorale per escluderla e questo lei lo può notare studiando quello che è accaduto nell'Europa dalla metà degli anni 50 in avanti cito un caso tra tanti quello italiano ci è talmente noto che è inutile sviscerarlo ma molto sintomatico di un paese importante come la Francia la Francia nel 46 si dà una costituzione modellata su quella della prima repubblica se uno studia la costituzione del 46 vede che quasi il sottotesto come dicono le persone raffinate è la dichiarazione che apre la costituzione dell'anno 1 della repubblica rigorosamente proporzionalista e la Francia vive questa esperienza per molti anni fino al colpo di stato che porta il generale de Gaulle al potere nel 1958 13 maggio 1958 il Parlamento si suicida il partito comunista francese vota la fiducia al presidente del consiglio Flamelin democristiano movimento repubblicano popolare si chiamava ma lui si dimette lo stesso pur avendo la maggioranza dei parlamentari e spiana alla strada del generale de Gaulle portato dalla secessione in Colonia in sostanza qual è il primo provvedimento del generale de Gaulle cambiare la legge elettorale che diventa la legge a doppio turno che sistematicamente estromette dal Parlamento le cosiddette estreme quindi il PCF che era un quarto dell'elettorato francese al secondo turno vota per i candidati socialisti ha una rappresentanza minima dopodiché dopo un po' di turni elettorali si estingue perché un elettore si stufa di votare prima in un modo e poi di votare in un altro modo vota direttamente in quell'altro modo ecco la ricetta classica da noi è arrivata più tardi è arrivata nel 93 prima ho ricordato il caso tedesco tutti lo elogiano e hanno ragione per tanti motivi loro avevano una buona foglia di fico diciamo così Weimar Weimar non era crollata perché c'erano troppi partiti era crollata per la crisi economica spaventosa la disoccupazione di massa i governi centristi non furono capaci sostanzialmente di affrontare il problema e il movimento itleriano larghissimamente ottenne consenso nelle masse dei disoccupati Hindenburg presidente della repubblica diede al Führer del partito nazionale socialista l'incarico di essere cancelliere quindi non fu la frantumazione politica ma semmai il contrario ad assassinare Weimar ciò non toglie che quando nel la repubblica federale tedesca si vota per la prima volta nel 49 due grandi partiti la Christliche Democraticische Union da una parte il partito social democratico dall'altro e c'è anche un partito comunista tedesco occidentale il cui segretario si chiamava Max Reimann bravissima persona c'è questa rappresentanza nel Parlamento c'è la guerra fredda c'è la Germania Est dall'altra parte bisogna buttarli fuori allora si fanno due operazioni contemporaneamente una è la denuncia dinanzi alla corte di Karlsruhe l'equivalente della nostra corte costituzionale va messo fuori legge questo partito perché non condivide i fondamenti della nostra società e si apre un processo lunghissimo di messa fuori legge contemporaneamente si fa una legge elettorale per cui lo sbarramento è al 5% perché il partito di Max Reimann era sul 4% e quindi veniva elegantemente estromesso dal Parlamento prima ancora di essere messo fuori legge cosa che avvenne subito dopo dopodiché è rimasta nella prassi tedesca questa maniera di procedere e la legge elettorale che allora parve liberticida nel senso che buttava fuori una minoranza brutalmente oggi ci sembra quasi un faro di luce rispetto a leggi elettorali che rassomigliano alla legge acerbo va bene il senso di questa operazione non è ginnastica costituzionale tecnicismo è un modo per estromettere le minoranze dal rappresentanza parlamentare perché comunque conterebbero perché comunque avrebbero una voce ed è quello che non viene gradito quindi la domanda che fare famosissima Cernicevski ed altri oggi consiste nel dire ridiamo voce a chi non ce l'aveva applausi grazie 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 grazie